wow eccoci qua un altro podcast oggi in questo titolo parliamo la paura del telefono andiamo sempre con qualche effetto per iniziare velocemente eccoci qua perché paura del telefono e si lega già ai podcast che è lo stile che abbiamo visto anche in tutti gli altri episodi in cui parliamo della paura del rifiuto normalmente anche i venditori ma anche chi al telefono pensa che il telefono sia morto per quello che il tasso di conversione quello che cioè il risultato finale sia sostanzialmente utilizzare altri strumenti come il social e learning abbiamo visto le email il cosiddetto venditore ti risponderà molto ovviamente più facile andare di persona anche il quello che venditore che va ma non è morto quel venditore diciamoci chiaro da amici amici di là che ci sono guru che ognuno sostiene la sua strada io in realtà ammetto con molta facilità che l'unico modo per crescere in tempi più brevi più brevi ok è quello di lavorare sulla propria forza vendita e sul venditore cioè avere venditori in gamba che sanno che il telefono che è la paura di tutti la ha paura anche del venditore più professionista del mondo sa il telefono è di per sé qualcosa che deve avere familiarità deve entrare in contatto con loro deve avere è normale perché il fatto del rifiuto del no dello sbattimento del mettere giù ok ci sarà però guardiamo alcuni dati normalmente una telefonata può avere tre scenari uno un terzo ti dirà sì un terzo dirà no e un terzo dirà forse questi sono già gli scenari che tu avrai davanti la cosa la capacità è trasformare quei quelli che sono forse più velocemente possibile in no o in sì senza perdere tempo e il no averlo quanto prima prima avete il no più telefonate potete fare ok sulla vostra lista per quello poi come voi sapete è ovvio che la lista più è profilata avete l'ok ma ricordatevi che non dovete perdere tempo se la lista non è già profilata andrete voi a profilarla nel tempo con il numero di chiamate per quello il concetto è fate qualità moltiplicato per quantità se non avete in mente questo ragionamento quantità per qualità o qualità per quantità perderete tempo ore prima di prendere in mano il telefono il telefono è qualcosa di quotidiano che la vostra azienda è questa domanda che faccio voi avete una persona che dedica un'ora due ore al giorno o un'ora al giorno costantemente su prospecting questa è la domanda che dobbiamo porci tutti noi questo è quello che permette la quello della creazione delle liste o pepline come vengono chiamate cioè delle liste di attività commerciali questo è quello che dovete ragionare in azienda cioè avere delle liste commerciali costanti non farlo ogni tanto pensando che il marketing o tutto il resto possa dare il risultato se non c'è la benzina dal basso e che la pentola si riscalda grazie al gas sotto non perché si riscalda grazie solo al sole che è il marketing ok coniamoci questo piccolo concetto insieme ora andando alla telefonata la paura di tutti molti avranno questi alibi che vi diranno come ho detto a più di persona in questo periodo mi ricordo ancora il oggi dicono molto devo andare di persona non posso fare gli incontri oggi la videoconferenza è diventata più o meno un must per tutti ma io mi ricordo ancora che molte persone vogliono vedermi di persona se no non chiudo il contratto ok questo è reale questa è la sensazione che ho sempre avuto anch'io molti anni fa e adesso vi posso dire che è molto meglio avere un no in videoconferenza che andare due ore per andare da un cliente pensate quante persone in un giorno un vostro venditore può intercettare andando di persona c'è anche un bravo venditore che bussa alla porta o va in giro come può essere strutturata la sua giornata nelle migliori delle ipotesi un super uno che va veloce pensate in una in una città una città con alta densità per quello pensate un milano ok dove ho la possibilità però i tempi sono quelli io quante persone posso vedere in un giorno cioè al di là dei rifiuti cioè io se tutto va bene molto probabilmente in un milano arriverò a sentire 5 6 persone ok tutto quello che posso fare in un'ora in telefonate che ne posso sentare 25 50 in un'ora cioè io posso sentire 50 persone in un'ora contro 6 al giorno pensate questo vantaggio che avete competitivo ok perché la paura è della telefonata è l'interruzione l'interruzione marketing interruzione cioè interruzione del marketing fa parte della strumento di marketing degli strumenti di vendita interrompere ok è così ma interrompi in qualunque momento lo interrompi col social lo interrompi solo che il telefono hai questa ansia superiore perché il no te lo dicono subito tac all'istante allora se questo voi lo togliete fa parte del dna vi abituate che no è la normalità perché l'avete già digerito che no vi dico trovate gente che vi insulta vi insulta ok vi insulterà ok ma non è meglio uno che vi insulta almeno avete già chiuso il capitolo e andate a quello che effettivamente poi migliorerete col vostro vostro determinazione vostra sicurezza ho già parlato nell'altro podcast di quali sono semplicemente alcuni atteggiamenti che dobbiamo avere dare sicurezza nella telefonata vi ricordo la domanda che ho fatto anche nell'altro podcast non dire quando può per lei la incontro in ufficio guardi ho un buco libero tra i vari clienti può venire alle 4 può venire alle 3 questo è la domanda lui poi vi dirà no non posso gliene propone un altro giorno dopo preciso nell'orario guardi che guardo l'agenda un secondo tac alle 3 questo è un atteggiamento attivo e proattivo ok nella vendita quello per dire ancora che se non avete una leva di vendita forte e determinata in un periodo come questo ok che c'è bisogno ovviamente di persone che hanno fanno numeri quello qualunque azienda ha bisogno di fare quel n telefonate vi ripeto un'ora o mezz'ora al giorno determina il cambiamento del vostro asse di comunicazione per generare i prospetti che sono la base della vostra azienda ok grazie a voi al prossimo podcast